La partita di oggi è andata sicuramente molto meglio come ieri, in cui abbiamo fatto molti errori. Stamattina abbiamo analizzato i lutti e siamo tutti a vincere, molto un avversario. Nel ranking è una decina di posizioni davanti a noi. Il partito in generale è andato bene, anche lo scorso stiamo facendo un buon lavoro. Speriamo anche nei partiti ufficiali di farci cadere come adesso.